Ah Giallu ma qua mi dicono dalla regia che t'hanno smascherato Ma che è sta cosa? Hanno smascherato Mr. Basta regà Ma veramente Giallu Omi ma che stai a fa' ma poi si mette pure a guardarlo in live Omi Adol Andrea io questa volta è proprio la volta buona Che ti mando una denuncia E registrate qua Ti mando una querela Andrea Ti levo tutto quello che hai Te lo dico una volta solo La prossima volta verrai querelato Isagerato Ti levi quel poco che ha Bravo Beh effettivamente Guarda lui è strunanissimo Ma guarda che non capiscono Poi guarda C'è il cervello La faccia con la bocca C'è il cervello Di po' 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 Ma chi è? La maghetta guardia Chi è? Con i capelli lunghi Con i capelli lunghi Così con il capello così Con la maghetta guardia Un po' può sembrare Ma sì Può sembrare effettivamente Pure come gesticola Sì sì Le mani Eh lui o non è lui? Ma che non ti ricordi Per me veramente ha difficoltà a ricordarsi Quando era piccolina Secondo me lui c'era cascato E' quando era piccola La fotografia C'era cascato Era stunnato Il nostro seo Ma poi farite il titolo pure Il nostro seo Cazzato Non so se posso dirlo Ah ok Ho paura che Ma se ti avessi estrivato St'apertura Ma metto vicino Un'altra Ma cosa aspetta Non è mister flame C'è rimasto male Ma comunque tipo controfigura Piamolo Madonna mia C'è rimasto male